Sulla politica economica vanno all'attacco anche i 5 Stelle che organizzano una marcia contro la povertà. Il DEF, afferma il Movimento di Grillo, toglie altri 10 miliardi di euro dalle tasche dei cittadini. Il Movimento 5 Stelle pensa che per far ripartire il paese bisogna dare agli italiani, non togliere. Per questo che proponiamo il reddito di cittadinanza e annunciamo una grande iniziativa per realizzare il nostro progetto.